Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI in direzione Firenze, rallentamenti per lavori sul viadotto del Turbone tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in pruneta. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. La viabilità cittadina a Firenze, in via Cimabue, sono in corso lavori per un'isola ecologica, chiuso il tratto da via Gioberti a via Giotto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!